Grazie a tutti. Il 26 ottobre prevede la visita guidata dell'oliveto biologico aziendale, un breve laboratorio sul tema, la degustazione di pane e olio e di altri prodotti biologici e la visita del frantoio biologico Silenzi a San Paolo di Iesi. Il programma prevede il ritrovo alle ore 9.30 all'azienda agraria Arca Felice in via Minonna 75 a Iesi. La conclusione sarà per le ore 12.30. La partecipazione al laboratorio e alla visita con la degustazione di prodotti biologici è di 5 euro. Per Vallesina TV è tutto.